Vorrei parlare di un tema che per me è fondamentale, di cui sembrano interessarsi pochi e la grandissima maggioranza degli italiani fregassene assolutamente, invece la cosa secondo me è seria, vorrei parlare della protezione della lingua italiana, dice da quale pulpito viene la predica, tu che scrivi in dialetto, sì va bene, a parte che scrivo anche in italiano, però vedete il problema è un altro, il problema è questo, recentemente, qualche anno fa in Europa si è deciso che le leggi o tutto ciò che loro fanno, siano tradotte in inglese, tedesco e francese, prima si traduceva in italiano, l'italiano è stato escluso, non vengono più tradotti in italiano, se tu vuoi conoscere le leggi dell'Europa, vi assolutamente devi sapere o l'inglese o il francese, altrimenti Nisba non le conosce queste lettere, le devi far tradurre. Questo significa una regressione della nostra lingua, i nostri deputati europei avrebbero dovuto opporsi e con forza questa regressione, perché? Perché io avverto come dalla tecnologia dove l'uso di una terminologia di lingua inglese è corrente e quindi adoperata da noi nel linguaggio comune si sia passato sempre di più all'adozione di parole inglesi anche nella vita comune, non solo, ma perfino i politici adoperano per leggi italiane o per norme italiane terminologie inglese, election day e via di questo passo per esempio. Che senso ha tutto questo? Tutto questo è prima di tutto un provincialismo assoluto, assoluto. Sentire parlare un presidente del consiglio che adopera parole inglesi a me italiano fa impressione, è come se il presidente del consiglio inglese adoperasse parole italiane mentre parla al Parlamento, è una follia, è una pura follia, esistono parole italiane che significano esattamente la stessa cosa, perché non adoperare le parole italiane? Nel campo della moda non ne parliamo, ormai si parla solo inglese, è così che muoiono le lingue, sapete quante lingue muoiono? Muoiono 6 lingue ogni 15 giorni nel mondo, perché una lingua diventa proprio più forte del paese che gli sta vicino e finisce a poco a poco per inquinarla completamente fino a farla scomparire. Dio mio, noi abbiamo una tradizione letteraria fortissima, quella per fortuna non scomparirà, ma si rischia di far diventare l'italiano una lingua morta. Quindi io non sono, attenzione, un autarchico come capitò ai tempi del fascismo, quando Vanda Osiris, dovete cambiarsi il nome, in Vanda Osiris, levando la S finale perché faceva straniero, o San Luis Blues, diventava la tristezza di San Luigi come titolo del pezzo jazz, un delirio mentale, no, ma una giusta difesa della lingua bisogna che sia fatta assolutamente. Noi abbiamo fatto una guerra infame ai dialetti, ma i dialetti sono la forza di una lingua, noi abbiamo questa rara cosa che sono i dialetti che altre nazioni non hanno, altri popoli non hanno. La lingua è nazionale, è come un albero che affonda le sue radici in tutta l'Italia e trae dalla periferia verso il centro le parole. Le parole così una volta diventavano lingua, dalla periferia al centro ed erano come una linfa vitale per l'albero della lingua, producevano foglie vive, se il terreno sul quale si nutre la radice dell'albero è inquinato da parole straniere, le foglie diventano gialle, l'albero muore e questo è il rischio che corriamo, non ora certo, ma fra vent'anni, fra trent'anni sì e allora io invito a un minore provincialismo e al recupero delle bellissime parole della nostra bellissima lingua. È stato pubblicato in questi giorni un libro che si intitola Come la penso, in questo libro ci sono alcune cosine perché con la cultura si mangia, quindi a parte che con la cultura si mangia, la cultura non è una cosa sacrale, una cosa da cult, una cosa per pochi, la cultura è di tutti e poi cos'è la cultura? La cultura non è solo la letteratura, ma la cultura è il lavoro dell'operaio, la cultura è come lavora un impiegato, la cultura è come la pensa il capocondominio, la cultura siamo noi, perché noi siamo cultura, l'uomo è cultura.